Maxi sequestro di beni da parte della DIA, la divisione investigativa antimafia di Genova su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il sequestro ha riguardato in totale beni per 15 milioni di euro a carico di Carmelo Gullace e della moglie Giulia Fazzari, oltre che di Orlando Sofio e Marianna Grutteria, tutti arrestati nel 2016 nell'inchiesta Alchemia. L'inchiesta aveva portato a 42 misure cautelari a carico di soggetti legati alle cosche di Indrangheta, Raso, Gullace, Albanese e Parrello, Gagliostro, accusati di associazioni di tipo mafioso, concorso esterno in un'associazione mafiosa, corruzione, intestazione, fittizia di beni e società. La DIA di Genova in particolare ha sequestrato conti correnti, depositi bancari, beni mobili, setti società e immobili nelle province di Savona, Alessandria e Reggio Calabria. Gullace è considerato un elemento di spicco di una cosca operante nel nord ed emissario diretto dell'Andrangheta per la Liguria e il Piemonte.